Il Napoli batte in amichevole il Bayern Leverkusen con il ponteggio di 2-1 al San Paolo. La squadra di Mazzarri prosegue quindi nel migliore dei modi l'avvicinamento alla Supercoppa contro la Juventus e lo fa scoprendo volta per volta il talento straordinario di Lorenzo Insigne. L'ex pescarese parte ancora nell'11 titolare e regala una prova piena di lampi di genio a fianco di Amsic e Pandev. E proprio sono queste di lampi che Insigne serve il pallone dell'1-0 a Macher-Hamsic. Il Napoli chiude avanti all'intervallo meritatamente ma viene colpito da un'incornata di Friedrich all'inizio ripresa per l'1-1 ma da quel momento in poi è quasi monologo azzurro che si concretizza al cinquantesimo con la rete di Pandev sul tap-in. Il Napoli denota una condizione fisica migliore dei suoi avversari e cresce ulteriormente nel finale sempre grazie agli spunti di Insigne. Il nuovo idolo di San Paolo. Chissà che Mazzari non lo promuova fra i titolarissimi?